Colpaccio dell'Aragona che sbanca lo Sede Presti battendo per 3 a 2 i padroni di casa del Macchi della Gela. Nell'anticipo della quattordicesima giornata di promozione, gli Aquilotti rimediano la seconda sconfitta di fila e vedono il sogno play-off allontanarsi ad otto lunghezze. Nemmeno l'uomo in più per gran parte del secondo tempo è servito ai biancorossi per ritornare al successo. Puniti per ben due volte da Lapis su calcio di punizione e dalla rete di Salemi, alla squadra di Mr. Mirko Fauciana non è bastata l'ottima prova dei suoi ragazzi e le reti di Castania e Caruso per portare a casa la vittoria. Macchitella che adesso dovrà rimettersi sulla strada giusta e guardare alle squadre che inseguono anziché a quelle che la precedono. È un'occasione sicuramente persa questa di oggi, uno scontro importantissimo contro questa Aragona che ci ha fatto faticare. Non completamente abbandonato perché la classifica resta sempre molto corta. Come abbiamo visto sono abbastate le vittorie consecutive del Macchitella per ritornare nella zona alta. Adesso però si deve riprendere un po' l'andazzo che si è perso in queste ultime due partite. Questa voglia di riscatto dei ragazzi è una maggiore concretezza sicuramente sottoporta. Recupereremo per la prossima partita Raffaele Iudice, per non molto importante per il centrocampo. La sostanza si è fatta sentire anche abbastanza. Però c'è ancora molto da lavorare. Il rischio purtroppo di avere molti ragazzi in squadra, anche se non tutti under, molti del 94 e del 95, è anche questo. Delle partite che non riescono per come dovrebbero. Però siamo convinti, io così come tutta la dirigenza, che questa è la strada migliore da percorrere. Oggi abbiamo raccolto niente, però abbiamo giocato bene. Questo non significa che vanno demoralizzati i ragazzi perché hanno fatto una buona prova. Capita a perdere queste partite. Speriamo di non perderne più, anche perché avevamo preso un bel filotto di vittorie. Questo significa il secondo arresto consecutivo. Il che devo riprendere un po' l'entusiasmo all'interno dello spogliatoio perché oggi non basta soltanto la bella prova. Oggi li volevo più cattivi sotto porte, non lo sono stati. Alcuni incidenti di percorso, però alla fine vedo il bicchiere mezzo pieno. Dal secondo i ragazzi danno sempre il massimo dentro lo spogliatoio e in gambo. Significa che il gruppo c'è, la squadra c'è. Oggi abbiamo perso una grande occasione per fare la zambata dentro i play-off. Ora ci dobbiamo guardare invece, essendo la classifica molto corta, ci dobbiamo guardare invece dalle zone basse della classifica.